Interviene Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della regione Puglia. Anche oggi la Puglia in primo piano nell'International Paris Air Show. Nel corso dell'International Paris Air Show abbiamo avuto vari incontri con i rappresentanti dell'Istituto per il Commercio con l'Estero, oggi ITA, che cura l'organizzazione della Fiera Internazionale dell'Aerospazio Grottaglie 2020. Per la prima volta in Puglia a Grottaglie avrà luogo un evento internazionale di grande rilievo tecnologico ed industriale. Intorno all'aeroporto di Grottaglie infatti si concentrano attività industriali attratte dal fatto che qui si trova la più grande pista di atterraggio d'Europa e una piattaforma unica nel sud Europa per la sperimentazione di nuove soluzioni aeronautiche, test bed ed in particolare per il volo senza pilota. Per realizzare l'iniziativa collaboreranno la Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, la Società regionale INAUS Puglia Sviluppo e il Distretto Tecnologico Aerospaziale. Chiederemo inoltre la collaborazione del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Italiana e di aziende del settore di livello internazionale. Sempre all'interno dell'International Paris Air Show si è svolto oggi il seminario Italy, The Perfect Platform for Aerospace, organizzato da ICE e Invitalia e finalizzato ad illustrare le opportunità di investimento presenti in Italia e in particolare in Puglia nel settore aerospaziale. Per quanto ci riguarda, conclude Borracino, abbiamo illustrato gli strumenti finanziari che la Puglia mette a disposizione delle imprese per i loro investimenti. Teresa Mulloi di Puglia Sviluppo e Patrizio Suma di Aeroporti Puglia hanno illustrato le misure attivate dall'assessorato allo sviluppo della Regione Puglia. Si tratta di 12 strumenti di agevolazione, tutti attivi e privi di scadenza.